Il titolo del nostro progetto è Automazione Order to Cache. Il nostro progetto riguarda l'automazione del processo che parte dalla ricezione di un ordine da parte dell'azienda cliente fino alla gestione e generazione della spedizione. Il processo era caratterizzato da task manuali, sistemi eterogenei e task ripetuti nel tempo che appunto impiegavano un tempo di attraversamento estremamente elevato. Attraverso il nostro progetto abbiamo portato una piattaforma centralizzata, una piattaforma digitale che consente e permette di automatizzare tutti quei processi prima gestiti in modalità manuale. I benefici che l'azienda ha ottenuto attraverso il nostro progetto riguardano un'automazione di quelli che erano i task manuali, quindi una riduzione delle attività manuali di oltre il 95%, una riduzione dei tempi di gestione della pratica, quindi dei tempi di attraversamento del processo, aumentando quindi la performance del processo stesso e come ultimo o non ultimo la possibilità di monitorare il processo attraverso una dashboard che possa evidenziare quelli che sono gli stati di avanzamento della pratica, integrata ovviamente con tutti i sistemi in essere. È una soluzione unica in quanto abbiamo lavorato fortemente sulla modalità di integrazione fatta attraverso API che consente alla nostra soluzione di integrarsi in modalità flessibile e snella con i sistemi IT dei nostri clienti senza portare forti impatti infrastrutturali. Il secondo aspetto riguarda i tool e l'algoritmo di automation e intelligenza artificiale che consente l'automazione di processi fortemente manuali, ridisegnandoli in chiave totalmente digitale e automatica. La nostra soluzione può essere applicata in qualsiasi ambito aziendale, assolutamente cross settoriale, in quanto sia tramite il modello di integrazione, sia tramite il lavoro fatto sull'algoritmo di automation e di intelligenza artificiale, che possono essere customizzabili e personalizzabili in maniera estremamente snella, possiamo andare a colpire quelli che sono processi caratterizzati da alta manualità, tanti sistemi impattati e tempi di attraversamento lunghi, andando a colpire quelli che sono appunto le criticità del processo stesso. Grazie per la visione!